Ieri sera, mercoledì 17 gennaio a Casella Torinese, i carabinieri di Reni, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno denunciato per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo tre pastori, padre e figlio italiani di 64 e 38 anni e un loro dipendente romeno di 31 anni. Permettevano di far pascolare abusivamente il proprio greggio di circa 1.000 vini su due fondi di terreni agricoli a Casella Torinese, rispettivamente in via Vinicola e via Lavoresco, senza rilascio delle relative autorizzazioni da parte dei rispettivi proprietari. E' stato anche richiesto l'intervento dei veterinari dell'ASL 84 per la presenza di 5 vini morti sui cittadini terreni. Gli animali sono stati rimossi per il successivo smaltimento. Gli animali sono stati rimossi per la presenza di 5 vini morti sui cittadini.